CASTELLO FIABESCO Questa puzza nel cesto dei panni sporchi Pulito Sparco Pulito Pulito Sparco Senti, a me non va di allusare la roba, io metto tutto a lavare Ecco, così Francesco, ma che cosa stai facendo con le scarpe sporche? Non c'è spazio, devo schiacciarli per bene Ah, ho capito, devo pensarci io Non c'entrano, Francesco aiutami Sì, adesso ti aiuto, un attimo No, Francesco, ma che fai? E altrimenti non c'entrano in lavatrice Ciao, io mi chiamo Erika Oh, Cristina, Francesco, state facendo il bucato oggi? Sì, solo che abbiamo così tanti vestiti che non c'entrano in lavatrice Ma non è vero che abbiamo tanti vestiti È la lavatrice che è piccola Dovremmo comprarne una più grande Allora perché non ne compriamo due o tre di lavatrici? Cristina, ma sai che invece è proprio un'ottima idea Potreste comprare tante lavatrici e metter su una lavanderia Oh, giusto Così potremmo anche guadagnare qualche soldino Benissimo, andiamo subito a comprarle Perfetto, sono pronto per aprire la lavanderia Ti va di aiutarci a realizzare quest'idea geniale? Ottimo, qui c'è tanto spazio per una lavanderia Oh, le lavatrici stanno già arrivando Vieni, vieni, tranquillo, basta, stop Ecco la prima lavatrice E la seconda Accidenti, quanto è grande Grazie per la consegna, arrivederci Oh, stanno arrivando anche le altre Vieni, vieni, fermo Ecco le altre due Wow, quante funzionalità che hanno Grazie La nostra lavanderia è quasi pronta Mancano soltanto i detersivi Adesso è tutto pronto, possiamo aprire la lavanderia Ottimo, finalmente possiamo lavare tutti questi vestiti Apriamo l'oblop E infiliamo tutti i vestiti Non togli il tersivo in polvere Salve, dovrei lavare questo vestito Benvenuta, ma certo Può metterla qua in questa lavatrice Perfetto, quanto ne devo per questo lavaggio? Per un vestito sono due Ecco lei Grazie Bene, può aspettare in sala d'attesa Perfetto, grazie mille Oh, che divano comodo Che idea geniale, Erika, aprire questa lavanderia Eh sì, puoi dirlo forte Guarda, sta arrivando un altro cliente Buonasera, vorrei lavare i miei vestiti qui da voi Benissimo, c'è questa lavatrice libera Grazie Aggiungo il detersivo Perfetto Può attendere in sala d'attesa Vediamo quanto mi deve Uno Oh sì, certo, ecco a lei Grazie Cristina, la lavanderia sta andando alla grande Davvero? Sono contentissima Salve, come sta? Bene, grazie E lei? Grazie mille per averci aiutato, Erika Figurati, è stato un piacere Sì, Erika, grazie mille per l'aiuto Mi sono divertita molto anch'io E tu apriresti una lavanderia Se ti va, metti mi piace E continua a seguire le avventure di Francesco e Cristina Noi ti aspettiamo Ciao, alla prossima Sì, continua a guardare i nostri video Ti aspettiamo Ciao, alla prossima Ciao, alla prossima